Ci sono novità che possono essere piccole decretanti, assolutamente visibili e grandi novità che possono essere più nascoste. E' questo il caso della collezione 2017 di casa Mobilvetta che, confermando il recentissimo K8 Tecnoline e i KAP, propone una innovazione importante per entrambe le gambe. A guardarlo dall'esterno, il semintegrale di casa Mobilvetta sembra identico a quello dell'anno scorso, però qualcosa è cambiato. È cambiato nel cupolino, che è più alto, di 10 cm, che porta l'altezza complessiva a 290 cm rispetto ai 280 precedenti. C'è un motivo. Il nuovo KAP, infatti, è proposto in versione Tecnoline, ovvero con doppio pavimento tecnico. I nuovi KAP Tecnoline adottano una diversa linea di bandelle, realizzate sempre in alluminio, che, esattamente come quelle del K8 Tecnoline, accolgono utili gavoni per stipare oggetti non particolarmente delicati. Per ciò che concerne i modelli, la gamma 2017 si compone di sei unità. Nascono, infatti, due nuovi modelli, o meglio, uno viene completamente rivisitato. Si tratta di Kea P67, che abbandona la lunghezza precedente di 7,40 m, passando ai 699 cm della versione 2017, riproponendo il letto matrimoniale trasversale su garage. Altra importante new entry è data dal nuovissimo Kea P Tecnoline 68, profilato da 7,40 m di lunghezza, con letto matrimoniale centrale in autico e un interessante sviluppo della tua let. Naturalmente confermati alcuni altri cavalli di battaglia della gamma Kea P, tra cui i Kea P63, adesso in versione Tecnoline, e Kea P65, in versione Tecnoline, modello dedicato a coloro che ricercano la sempre più diffusa pianta con letti gemelli posteriori su garage. A fianco ai nuovissimi Kea P in versione Tecnoline, Mobilvetter ripropone le tre versioni di Kea M, i mansardati, disponibili anche con piante che solitamente strizzano l'occhio a una clientela orientata sull'integrale o sul profilato, tra questi il Kea M76 con letti gemelli o il 79 con letto centrale. Ma è l'ammiraglia della serie Tecnoline, il K8 Tecnoline lanciato l'anno scorso, a essere oggetto di un importante upgrade. Tre infatti delle versioni che compongono la gamma, particolarmente K8 Tecnoline 79 e 89, il primo con letto centrale posteriore su garage e toilette opposta con mobile lavabo centrale, K8 Tecnoline 89 con letto centrale ma con toilette e doccia separate e K8 85 con letti gemelli posteriore su garage. Da questa stagione sono infatti disponibili anche con telaio alco MC e doppio pavimento passante. Accessibile lateralmente tramite apposi gavoni integrati nelle bandelle, così come dall'interno con apposite botole a pavimento, il nuovo doppio pavimento passante accoglie la totalità dell'impiantistica, quindi serbatoi dell'acqua, del recupero che sono evidentemente in una intercapedine protetta e riscaldata, così come le componenti dell'impianto elettrico. Un upgrade notevole che permette al K8 Tecnoline in versione alco di installarsi con pieno merito nell'elite della produzione continentale in materia di motorhome grazie a uno stile unico che riguarda sia gli esterni decisamente accattivanti e sportiveggianti sia gli interni. Pienamente confermato naturalmente sui veicoli di produzione 2017 è lo styling degli interni che vedono un'alternanza tra legnami e superfici lucide e satinate che rendono estremamente piacevole vivere a bordo dei veicoli. Il tutto naturalmente è sottolineato da una capillare illuminazione a led mentre sono introdotte piccole ma significative migliorie. Mobilvetta ha infatti lavorato sulle poltrone della cabina introducendo nuove poltrone prodotte dall'italiana FASP più leggere e ergonomiche che permettono di neutralizzare il sovrappeso dato dall'introduzione delle meccaniche Euro 6. La casa toscana ha lavorato sui listini non introducendo variazioni di prezzo rispetto ai modelli 2016 anche se i nuovi telai Fiat Ducato in versione Euro 6 costano 1200 euro in più. Per fare ciò sono stati proposti come optional il climatizzatore automatico fermo restando la dotazione di serie del climatizzatore manuale ed è diventato opzionale anche il formagas non richiesto da tutti i mercati. Grazie. 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 Grazie.